E continuiamo a presentare aziende prestigiose, è il momento di Cotton and Rope, realizza borse di corda di cotone ecologiche, comode e pratiche, utilizzando solo cotoni di alta qualità e colorazioni naturali, ogni borsa è un pezzo unico. Sul sito www.cottonrope.it è possibile acquistare borse in pronta consegna e personalizzate. Cotton and Rope! Natalia Kalin, benvenuta! Buonasera a tutti, mi piace la donna perfetta, bella, elegante. Qual è il colore della borsa di Cotton and Rope? Allora, colore rosa, azzurro, arancio e rosso. Grazie e complimenti, facciamo un fortissimo applauso a Natalia Kalin, Cotton and Rope.